Oh cazzo, arrivano in massa! Ah! Che bocchino! Ma escono dal terreno adesso! Sì no, stanno arrivando tanti! Aiuto! Sì no, stanno arrivando tanti! Uè uè! Uè uè! Non ci ammazziamo tra di noi, ormai! Solo, c'è giù! Non cazzo nessuno è arrivato! Oh, uno è partito in aria! Non l'ho visto! Ammazzonuto! Ma tu cazzo nessuno è? Non è venito! 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 Guarda cosa ho guadagnato da tutto questo! Tavarish Comandir! Vepalmio! 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 Non lo useremo più! Dove lo lasciate i log Splinter? Dov'è? Mi invitate dentro lo team! Splinter non c'è più! Dov'è andato? Penso sia sloccato! Dai! Oh c'è un tizio davanti! Sì no, ma io... Dove? Dove stai? Dove sta la fontanella! Sta dietro una macchina! Se sali sulla torre lo secchi! Non capisco dov'è la fontanella! La strada! Lungo la strada! Lungo il muro della chiesa! Dietro una macchina blu? Sì! Non lo vedo! Da qui! Mi inviti nel cazzo di team! Così capisco? Eh! Sta a fianco a me! Non posso! Ti invito al volo! Accetta velocemente! Così capisco dove cazzo sta! Lo uccido! Ma io non vedo lì! Sopra? Boh? Sì! Uno sta sopra! Che cazzo ci fa là sopra? Sopra la torre! Che torre? Quella per salire sopra sulla... In cima alla cosa! Spè! Ma ci tiro una granata! Occhio con le granate! Cristo Dio! Si è fatto aver male? Non lo so! La notizia sta abbastanza bene! Chi è che spara? Stai? Io si! Sta là sopra! Provo un attimo a mettere via... I due SSK e provo a andare a rusharlo! Dove sta il figlio di Troia che non ho capito? Sopra... Casa Nostra! Bastardo figlio da merda! I due figli di Troia schifosi! Andiamo? Ma io sto andando! Aspetta! Andiamo in due! Vedi nulla? E' lì su! E' lì su! Dovrà scendere così Troia! Eh! Mi ha tirato lui una granata! Non morite! Eh! Del cusino è bello che è morto! Ma... Senti! Vedo poca vita! Eh si! E' veramente non so che male! Lo sta prendendo! Lo sta prendendo mi sa! Sento che poi mi ha fatto una granata! Dic Quanto è morta ci sia qua! Oh! Sento che! Oh! Ho tirato un'altra granata! Orca! Dicam la tua vita! Continua a scendere! E queste granate fanno male! però non puoi entrare in casa il figlio di troia vero? no entrare in casa no l'ho preso ma l'ho preso in testa lui mi ha ucciso l'aga l'ho preso in testa lui non è morto con cosa l'hai sparato? con un nsvd diobono sarà full il server io raga io sono in cima all'elicottero però a voi vi vedo a 90 altri da me tra i tre tra tutti oh 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 farò farò vai in mezzo al bosco ma che ma dei splinter ma come sono sopravvissuto non ho idea non ho idea vai in mezzo al bosco era diretto alla mia testa era diretto alla mia testa ho preso la pala all'elicottero lì oh gesù cristo vengo verso barotta da certo se non i splinter sarebbe molto felice se morisse si deve essere solo devo girare madonna tra i lunghi se morisse finalmente cristo dio non fa più del cazzo che torna a fare l'ambo devo girare ogni volta rando si si è cresciato mi dispiace addio dio la madonna ma perché ti amo che faccio non ho oh oh c'è gente qua sotto io sono dove c'è il palo 1 hello oh cazzo c'è gente da me che hai scrasciato splitter posizioni qua dove sei ogni volta io mi perdo l'azione è armato mi ha detto in vibe hello hello ma come fa a sapere che ci sei ce l'hanno sentito ce n'è uno sicuramente ma dove siate dove siate la polistation di i pavlovo no mi sa che sono due mi cacca cacca comarovo eh ma siete un po' gai mi sa che sono due e sono armati di asce ah vabbè no non di asce ci hanno si sono due e sono armati lexino deve venire da fuori noi siamo tutte e due dentro la polistation bloccate sono due stanno spaccando il blocchetto oh cazzo sono entrati oh merda barricati usa la terza ho una granata ma non fare cazzate ho bisogno di una mano sono scorreggiato raga stanno venendo mi stanno venendo a prendere splitter io sono ancora a position in quale è uno ma il fatto è che capisci sam il pismo dio lo capisci cosa dico il tempismo il pismo oh cazzo peacemaker mi lasciano mi lasciano mi lasciano buttati dal tetto ma sto al secondo piano cazzo sono nella stanza grossa stanno aprendo le porte non ci posso credere tutti i morti crashati vai sam sali al tetto e buttasi di sotto sam si come la finisce mi hanno ucciso però ne ho ucciso uno di là ma dio merda dai falcon avrai un po' di soldi per i tuoi servizi e basta che non morite in 10 secondi tu vuoi? c'è un po' da dentro prova a dire chi è se qualcuno copre che io ho due ore che sto coprendo compro due cose vado via cioè raga raga uno sul roccione uno sul roccione vuol dire un tizio sul roccione mi guarda mi guarda ha preso l'arma ha preso l'arma dove cazzo sta? dove avete ucciso il secondo sicuro ah si sta là dietro spero ma ci tiro il granatino non fa cazzate c'è tutti lì se ti rotto là indietro c'è un cazzo che ne ho visto uno ma potrebbe esserci altra gente ma dov'è sta ancora in mezzo ai roccioni non lo vedo più in mezzo ai roccioni qui è in mezzo ai roccioni lo vedo Dexì aspetta morto bene questo mi sarà obeso vi prego fatemi provare la sua ghilis se bravo and they are inside yeah 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 I'm behind the yeah 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 I'm behind the this thing yeah 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 I'm behind the this thing yeah this thing all right come 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 here come here come here come here come here una pessima idea Dexin whatever all right allo let's kill the bitches damn do you have bandages yes yes that you like that yeah no mi piace questo che cammina con due granate qui thanks no problem no problem no problem questo c'ha armi e granate ci fanno un shottino da dietro che è una bellezza it's time to un tutte giacate what now I invite you to the team cosa ma quanta gente morta c'è qua let's time to un totizio davanti agli occhi lascialo stare che bo lascialo stare shall we go inside we rush there are just two we are three we can do this ci hanno comunque già visti non so se se venite con me ho delle granate possiamo tiragli tanti di quelle granate ma invitano a sto cazzo di team sennò ci speriamo l'ho invitato ma invite you to the team join join hey how how do i how do i join press p press p ma che cazzo è venuto ah i have no invitation you need to look on my name and press success it's display on green si stai tirando se mi riesci a coprire coprimi 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 sto tirando un'altra eh i no masi i lo sloggati si stai tirando un'altra lo so coli salmi un'altra Ehm, qual'è il tuo nome? Dexeno Dexeno Ok Dexeno Pussi Non bisogna fargli una assolina, povero c***o Ma che c***o Ma ti rendi conto in questo giro che abbiamo tutte le granate? Ok, non so, potresti mandare un'altra?